Campioni dello sport, ma anche campioni del cinema, Carlo Verdone, Piazza di Siena. Buongiorno, sono venuto a dare un'occhiadina. I cavalli qui a Roma sono sempre belli da vedere, è una gara importante. È sempre un bellissimo spettacolo, un spettacolo di affinato, di alta qualità. Vedo anche la gente che ha censo, sono tutti quanti degli esperti, io non sono un grande esperto, io sono più esperto di Palio di Siena, con un padre senese, quindi di cavalli benintenna, ma più di quelli cavalli che corrono per la piazza del campo. Però vedere le gare di questi giorni, è bellissimo. È sempre visto in televisione, è sempre molto bellissimo, mi ricordo che mi sono già da bambino, io sono il fratello di Carlo Verdone, c'è una fantastica. è sempre bello tornare qua, si anima un colmone verde.